Regalato la torre, non la cattura, sta succedendo di tutto, attenzione, non ci posso credere, SS Salve ragazzi, ben ritrovati per questo nuovo video, ci troviamo su Lichess, andiamo a fare qualche partitina Blitz Siamo a 49.000 iscritti, vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti per l'iscrizione Speriamo di arrivare velocemente a 50.000 iscritti Ilya Novikov, 2023, ok, difesa siciliana chiaramente, però con A6 è strano, non possiamo giocare il Grand Prix Almeno potevo anche provare, però di solito si usa a fare il fianchetto Ok, vediamo un po', su Lichess dovrei salire di punteggio perché sono qui a 2.400, ma qualche giorno fa anche peggio stavo Ero sceso a 2.340, una cosa del genere Comunque vabbè, ci può stare, oddio no Sto già peggio, posizionalmente siamo già peggio, ho perso un pedone No, c'è cavallo per C2 Oddio che disastro Mamma mia, cavallo per C2 Ok, ok, iniziamo così Bene, mi fa molto piacere Vediamo se magari si riesce a recuperare, che strano però Wow, non ha catturato la torre? Sembra strano Comunque ho due pedoni in meno Ora, un pedone in meno Vediamo lei cosa fa Non mi sembra chissà cosa 2.408, però forse poteva fare meglio È successo un disastro in apertura per me Addirittura è uscita È ritornata Gioca pedone B4 Facciamo cavallo A4 allora Donna A5 Ok, B3 Arrocco lungo Che coraggio Ok, arrocco lungo direi al tere B2 Poi magari preparo E5 Ah, questa Ok, E5 No, vabbè Assurdo Pezzo in presa Ecco come giocano i 2400 sull'e chess Allora, dovrei stare a 2500 Bene, qui si cattura Mi ha lasciato un pezzo in presa, ragazzi Che sta succedendo? Partite blitz Mi mancavano Normalmente live giochiamo tanto, però Mi mancavano le blitz Sull'e chess Allora, abbiamo Boh, forse posizione vinta Credo Anche se ho, diciamo Cavallo per due pedoni Qui stavo preparando torre C5 Lui l'ha bloccata Perché ora l'alfiere contro la C5 Però perde un pedone Ora c'è l'infilata di alfiere Perde anche la torre Ok, cambiamo le donne Catturo Questa è da abbandono Dai, Ilya, questa è da abbandono Però lei non abbandona C'ho anche la torre in presa Quindi diamo scacco E catturiamo in F7 Ok Vabbè, catturiamo in F7 Cioè, non abbandonano mai Sull'e chess Poca sportività Ci sta Quando uno gioca a blitz Magari non se ne accorge neanche E comunque la sconfitta a scacchi Ricordatevi sempre che Non tutti la accettano Ok Invece Negli scacchi Come nella vita Si perde e si vince Ok Qui difendiamo Mamma mia Dai, portiamo il pedone H Attacca a promozione Che succede ragazzi Non abbandona Ok, catturiamo Attacca con l'alfiere Attacca con l'alfiere Allora Ok Andiamo a promozione Qui vabbè Catturiamo H7 Difenderà con l'alfiere In H8 Si Ma è pazzesco Cioè, rimasta solo con l'alfiere Mi giochi sta partita Ma veramente Ok Bene così Allora Cerchiamo di darle scacco matto Il punto è che Alcuni Anche di voi Che guardate perché Nei commenti lo scrivete Ecco Questa addirittura è uscita dalla partita Dite che È giusto continuare a giocare fino in fondo No, ma non ha senso Se sei un principiante Fallo pure per imparare Ma così non ha senso Continuare a giocare fino in fondo Il tempo c'è Reclama la vittoria Eh, scusa Il tempo c'è Vabbè Assurdo quello che è successo Comunque ci può stare Dai, ci può stare Sono partite online Ma che me frega Andiamo avanti Quindi Ilya Novikova È scappata Prossima partita Ok SS 6567 Bene Il nome è tutto un programma Ok Allora Vediamo eh Cavallo F3 Cavallo F6 Devo giocare G6 Alfre G7 Ammazza Questo mi sta anche dando Vantaggio di tempo Bene così Vediamo un po' Sì lo so Le partite a 10 minuti Magari vengono meglio Le commenterei meglio Eccetera Però ragazzi Ho i punteggi Blitz Troppo bassi Ultimamente Devo cercare di portarli in alto Ora su Twitch Ci concentreremo un po' Su questo Ultimamente Nelle prossime live Vanno assolutamente Alzati i punteggi Che ne sono A 2500 Senza esagerare Ma a 2500 Su chess.com E sull'ices Ok Torre B8 Ho un pedone in più Bene B6 Non ha senso Ora perché rimane a 7 impresa Quindi giochiamo a 6 Non mi piace la posizione Ho un pedone in più Però Non lo so Mi sembra strana Sta posizione Lui sta attaccando Attacca con la donna Attacca con la torre 2302 Speriamo Di risolverla In qualche modo Eh Non so cosa fare Sono sincero Non so bene Cosa fare In questa posizione Difficile no? Giochiamo una mossa a caso H5 Cioè Vediamo cosa fa lui Ok Lui gioca H4 Perfetto Ho già i pezzi Dove voglio che siano Quindi Per questo è difficile Trovare la mossa giusta Facciamo torre 8 Giusto per non mettere In presa un pezzo Ok Lui raddoppia le torre Giustamente Sì credo qui di stare peggio Anche con un pedone in più Sto peggio L'attività dei pezzi Conta tanto Qui sto attaccando La torre in B1 Vediamo cosa gioca Lui potrebbe anche Catturare in B7 Eccolo lì E infatti Quindi Cambiamo Ora mi ritrovo Oltre probabilmente Con un pedone in meno Però Intanto Due torri Contro la donna Ci può stare No? Vediamo se lui Cattura in In A6 Due torri contro la donna In questa posizione Ci sta la grande Direi Dovrebbero essere più forti Le due torri Qui Non sempre lo sono Ma qui Dovrei riuscire a Coordinarle bene In questo finale Io non capisco Cosa stai aspettando A catturare un pedone No Ha giocato E4 Dice vabbè Lo catturo Quando voglio il pedone Perfetto Allora Eh non effettivamente Non è banale Che facciamo qui Torre C2 Oppure Tanto Allora il pedone Lo perdo per forza Sto cercando di capire Come collegare Le due torri Perché è meglio Se stanno in comunicazione Tra di loro Però giochiamo Torre C8 E poi torre B8 Le collego così Non credo di poterla perdere In questo modo Quindi gioco torre A8 Lui giustamente Mi attacca Torre B8 Allora Lui difende Però qui Penso posso salire E finalmente Riprendo indietro il pedone Ora dovrebbero Crollare un po' di pezzi Qui posso catturare No 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 Non posso catturare Perché altrimenti Arrivavo allo scacco È difficile Difficile Beh qui c'è un altro pedone In presa Però non lo so mica Pericoloso Pericoloso Andiamo su Oddio Andiamo in F8 Torre A1 Ok Non dovrebbe riuscire A vincere Vabbè Donna B1 La ignoro Completamente Cioè Gioco C4 Tranquillo Tranquillo Qui 27 secondi Ecco Probabilmente Il tempo Può darci fastidio In questa posizione La posizione no Non credo Avanziamo Prima o poi Deve catturare Ok Perdo il pedone Ora come valutiamo Questa posizione Ma secondo me Sta meglio il nero Cioè sto meglio io dai Torre in D5 Qui si cattura Eccoci Ora lui ha il perpetuo Mannaggia Vabbè c'ho poco tempo La patta Potrebbe anche starci Secondo me Non c'ho tempo Poco concentrato Non lo so Non benissimo Bene ma non benissimo Ok vediamo cosa succede Madonna 12 secondi Oddio ragazzi Aiuto Mi devo concentrare Ok Qui Rf8 10 secondi Scacco Facciamo Torre 7 In pre move Oddio Rf8 Male 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 Che tensione Madonna Mamma mia Eh oh Gli scacchi online Sono così Eccoci Ora perdo per il tempo Oh mio dio Troppo lento Troppo lento Ragazzi 20 secondi in meno Ma dove vado Vabbè ci provo Madonna Che casino E che sofferenza E che sofferenza Oddio No 17 decimi Oddio mi ha regalato la regina Ragazzi eh Ha regalato la torre Non la cattura Sta succedendo di tutto Attenzione Non ci posso credere SS Vamos No Vabbè Vabbè Abbiamo addirittura Vinto la partita Non ci posso credere Mamma mia Che cos'è successo Cioè cosa sono questi 17 centesimi di pedone Mi erano rimasti Stavo andando a caso Mi ha regalato la donna Gli ho regalato la torre Non l'ha catturata Assurdo Grazie a tutti per la visione di questo video Vi ricordo di mettere mi piace Di iscrivervi al canale Ciao E alla prossima Ciao